C'è una svolta per il canile di Rieti. Un importante passo avanti per la città arriva grazie all'accordo tra la ASL di Rieti e la provincia, che prevede la realizzazione di una nuova struttura. L'intesa, che avrà una durata di 50 anni, riguarda la cessione, incomodato d'uso gratuito, di un'area di oltre 500 metri quadrati situata in via del Terminillo, all'interno dell'ex manicomio provinciale. La provincia ha concesso questo terreno all'ASL, mentre quest'ultima, a sua volta, concesso all'ente provinciale l'uso gratuito di un'area comune attualmente utilizzata come parcheggio, dove sorgeranno moduli prefabbricati. Attualmente il canile sanitario si trova presso il canile comunale di via Cottanello, in un immobile di proprietà del comune di Rieti. La necessità di una nuova struttura era diventata urgente, come sottolineato dal presidente della provincia di Rieti, Roberta Cuneo. Era essenziale, ha detto, trovare un terreno adatto per la costruzione di un nuovo canile sanitario, distinto dal canile comunale. Il commissario della ASL, Mauro Maccari, ci aveva informati della necessità di individuare uno spazio per il canile sanitario, poiché il comune intendeva chiudere o trasferire il canile comunale dall'attuale ubicazione. Durante la seduta del Consiglio provinciale del 19 settembre scorso, così è stato quindi approvata la concessione dell'area presso l'ex ospedale psichiatrico della ASL. In cambio, l'ASL metterà a disposizione altre particelle di terreno nella stessa zona, dove potrebbero sorgere un nuovo edificio scolastico o moduli temporanei. Il nuovo canile sarà attrezzato con rifugi, cancellate tutto il necessario per accogliere in modo adeguato i cani. La vecchia struttura è stata spesso, suo malgrado, al centro di polemiche in termini di sovraffollamento, con i volontari impegnati a rendere più agevole la situazione per i quattro zampe ospitati. Ora la svolta che, si spera, possa esserci in tempi ragionevolmente rapidi.